Vai! Ok, Giuseppe Maddaloni, Master 50, la battaglia di Milano World 3, la battaglia di Milano 2018, box, crossfit, cesia. Non hai detto Master 50? Sì, ho detto Master 50. Allora, 0, 20 kg, box 60, Sì, perfetto. Toglio la battaglia di Milano. Vado? 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, go! 6, 4, 3, 2, go! Vai, bombettia. Vai, bombettia. Vai, bombettia. Dai, che sei quasi a metà, dai. Vai, bombettia. Vai, bombettia. Dai, dai. Vai, bombettia. Vai, bombettia. Vai, bombettia. Vai, bombettia. Vai, bombettia. Sei a cinque minuti. Dai. Vai, bombettia. Dai, dai. Dai, cerca di stare sotto i sette. Vai, dai. 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 Dai, che manca poco. Dai. 6 e 45, dai. 6 e 45, dai. Dai. Dai, gli ultimi metri, dai. 7 e 20. 7 e 20. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Dai, dai. 25. 25. 26. 27. 28. 29. Dai, l'ultima. 30. 9 e 10. Dai. Non uscire dall'inquadratura. Stai su a prendere fiato. Uno, due, tre, quattro. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Butta fuori l'aria quando sali. 11. 12. 13. 14. 15. Dai, dai. Sei a 10 minuti. 15. 16. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Non mollare. 24. 25. Non mollare. 26. Dai. 27. Dai. 28. 29. L'ultima, dai. 30. Undici minuti. Dai, Bombi, dai. Sei a 11 e 10. Dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dai, dai. 10. 11. 12. 13. Dai, dai. 11 e 50, dai. 14. 15. 16. Dai. 17. 18. 19. Dai. 15. 20. 21. 22. Dai, dai. 23. 24. Dai, le ultime 6. Su. 25. 26. Dai. 27. 28. 20. Vai, le ultime 2. 29. 30. Cosa devo fare? Vabbè, riprendi. 20 o 20. 12 e 40. 12 e 39. Va bene, hai migliorato di un minuto. No, ma hai fatto bene perché alcuni erano al pelo dell'anno rap, quindi hai fatto meglio farle così. Erano rap? No, però erano al pelo, secondo me sei di più stanco. Già... Schiaccio ancora stop? Stop. No, ma hai. No, ma hai.